buona giornata con l'almanacco barba nera oggi è il 29 febbraio si ricorda sant'ilario il nome ilario deriva dal latino hilarius che significa hilare allegro è molto diffuso nella variante femminile dice il proverbio bimbi poco amati crescono ostentati sono nati oggi gioacchino rossini baltus anthony robbins il 29 febbraio del 1960 in marocco un terremoto devastante provoca la morte di un terzo della popolazione di agadir nel 1968 l'astronomo inglese anthony ewish annuncia la scoperta delle pulsar corpi celesti di neutroni che rappresentano l'ultima fase della vita di una stella infine il 29 febbraio 1996 un incontro segreto nella reggia di saint james sancisce la fine del matrimonio tra il principe carlo e diana spencer italo calvino ha detto la lettura è un atto necessariamente individuale molto più dello scrivere arrivederci da barba nera dal 1762 l'almanacco più amato in italia